A ottobre in forte crescita i prezzi alla produzione dell'industria. Su base annua l'aumento è stato del 20,4%, in accelerazione rispetto al 13,3% di settembre. Secondo i dati Istat, a spingere i prezzi è soprattutto la componente energia. I prezzi alla produzione delle costruzioni segnano rialzi contenuti, mentre sono più ampi i rincari dei servizi di trasporto. A ottobre l'Istat ha rilevato aumenti su base annua diffusi a quasi tutti i settori del comparto manifatturiero. I più marcati riguardano i prodotti petroliferi raffinati, la metallurgia e i prodotti in metallo. Le uniche afflessioni interessano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici e computer, prodotti di elettronica e ottica. Nel terzo trimestre 2021 i prezzi alla produzione dei servizi aumentano dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e dell'1,3% su base annua. Gli incrementi più elevati interessano i servizi di trasporto marittimo e aereo, i cali più consistenti i servizi di telecomunicazione e postali.